Con lo sviluppo della società dell'informazione, sempre più pubbliche amministrazioni e denti locali possono erogare servizi informatizzati che necessitano di infrastrutture adeguate per poter funzionare. Come far fronte a questa esigenza riducendo il più possibile i costi complessivi di ownership delle infrastrutture informatiche necessarie al funzionamento dei servizi e consentirne una gestione integrata? L'EPIDA S.P.A. ha realizzato Data Center, che si propone come fornitore di soluzioni e servizi tecnologici in outsourcing alle pubbliche amministrazioni locali e agli enti soci sul territorio della Regione Emilia-Romagna. Scopriamo insieme cos'è Data Center. Per garantire un servizio di qualità, Data Center è interconnesso alla rete LEPIDA attraverso un collegamento in fibra dedicato e ridondato ad alte prestazioni, erogate senza interruzioni per 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Data Center, inoltre, grazie alla sua struttura e alle tecnologie utilizzate, è resistente ai guasti come blackout, attacchi informatici, crash di sistema, e gestisce in modo omogeneo ed unitario le infrastrutture telematiche delle amministrazioni socie o collegate alla rete. Data Center fornisce servizi di housing, hosting dedicato o virtuale, backup remoto e di disaster recovery, secondo livelli di servizio concordati con l'amministrazione. I servizi possono essere corredati da ulteriori componenti aggiuntivi. Tali componenti riguardano la connettività Internet, storage ad alte prestazioni, il backup e la gestione di middleware quali web server, application server e database. Comprese nei servizi forniti da Data Center, sono invece le componenti di Vulnerability Assessment, che consente di avere sempre una fotografia del perimetro in esame per la massima inviolabilità dei sistemi, e quella di Management, con le sue funzioni di Help Desk organizzato su due livelli. Il monitoraggio continuo dei servizi, la definizione di soglie di allerta e la produzione di reportistica consultabile sul web. Questo e molto altro è Data Center. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.